Se volete acquistare i crediti di FIFA Points a pressi bassi dal sito più veloce al mondo Nella consegna passate da IGVOLT con il link e il coupon in descrizione Buona prima ragazzi, qui è il tuo sito, vi stiamo tornando con noi Il video, come potete vedere è un vlog, cosa che non faccio abbastanza spesso Infatti questo video lo vedranno tre persone perché questa tipologia non va molto sul mio canale Però ci tenevo a dirvi un po' di cose, dato che comunque non parlo mai in modo diretto se non nelle live A proposito delle live stasera, oggi pomeriggio, verso le 5 e mezzo, 6 e mezzo Probabilmente ci sarà una live, probabilmente, ma non è sicuro Però forse sì, forse no, chi lo sa, restate sintonizzati sul canale Allora, che cosa devo dirvi? Non lo so neanche io perché mi sono già dimenticato Comunque vi ho chiesto di farmi qualche domanda proprio al fly Dato che è mattina e molti di voi sono a scuola quando ho fatto il post Però alcune domande le ho ricevute e quindi ci risponderò Che cosa volevo dirvi? Niente, che stiamo andando veramente alla grande E niente, vi passerei subito a rispondere alle domande senza perdere indugi e cose Cassi e massi e massi quindi dei palazzi Allora, Gabriele Ruotolo, che salutiamo ovviamente Saluto tutti quelli che mi hanno fatto le domande Mi chiede come è fatto a crescere all'inizio quando aveva aperto il canale Allora, molti di voi me lo stanno chiedendo E molti di voi lo fanno in modo sbagliato Perché lo fanno in modo sbagliato? Perché vengono a spammare sotto i miei video Non dovete spammare sotto i miei video No, ma non è che sotto i miei video in generale Non dovete spammare sotto i video delle altre persone Perché secondo me è una mancanza di rispetto Cioè ci stanno luoghi in cui si può spammare Tipo i gruppi di Facebook e robe così Però non sotto i video delle altre persone Perché è come se tu fai una cosa Ti impegni per portare un prodotto di qualità E poi viene uno sotto, passa dal mio canale Non ha senso, piuttosto Se dovete andare a commentare gli altri video Cioè siete liberissimi a commentarlo Commentate con cose costruttive inerenti al video E magari ricevete anche qualche mi piace E la gente possa vedere il vostro canale Quindi non fate stronzate Poi modi per crescere non lo so perché è veramente difficile Innanzitutto dovete fare video fatti bene Non dovete fare video col culo Perché altrimenti nessuno mai vi cacherà Ed è anche giusto così sinceramente Quindi se volete iniziare a YouTube Dovete partire con un presupposto di sganciare i soldi Dovete sganciare Almeno all'inizio dovete veramente sganciare E non poco Almeno per prendervi Anche all'inizio potete fare anche senza facecam Dipende sempre dalla tipologia che fate Per esempio fate code potete fare senza facecam Se fate FIFA Così e così Perché la facecam comunque è abbastanza importante Comunque L'importante è che abbiate un microfono decente Perché porca di una porca porca Fa davvero fastidio sentire l'audio che gracchia Che i frusci eccetera eccetera Io sono fissato con l'audio E infatti la prima cosa che ho comprato è stato il microfono buono Quindi vi consiglio di fare altrettanto E poi altri consigli Non lo so Avere una cadenza regolare fin da subito nei video Quindi portare che ne so Due tre video a settimana Però portarli che ne so Lunedì martedì Lunedì mercoledì e venerdì Rispettare quella cadenza Per dare fin da subito un'impostazione fissa Al pubblico Cioè il pubblico deve essere abituato A vedere i vostri video Un tot giorno a una tot ora E questo è molto importante Soprattutto all'inizio secondo me Dato che non avete un grandissimo pubblico Quei pochi che si affezioneranno Anche i vostri amici Così sanno che mercoledì Per dire alle tre e mezzo Esce il vostro video Quindi anche se non lo vedono nelle iscrizioni Vanno su vostro canale Lo cercano e lo trovano Quindi questo è importante secondo me E poi altri consigli Che vi posso dare E portare video comunque Fin da subito fatti bene Come ho detto E poi spammare Sì perché all'inizio Se non spammate non crescete Cioè ve lo dico proprio Paro paro Non crescete Cioè i primi mille iscritti E' veramente tosta 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 farli Quindi Poi da lì è tutta Relativa discesa diciamo Però all'inizio dovete spammare Spammare ripeto Non sotto i video altrui Ma nei gruppi di facebook Principalmente Nei gruppi di fifa Se fate fifa Gruppi di cod Se fate cod Perché comunque Io ci sto Quindi se vedo qualcuno Che fa video Fatti bene Ho conosciuto un bordello di gente Dallo spam Nei gruppi di fifa Quindi ci vado a vedere i video Tranquillamente Non è un problema Quindi Sì ovviamente sono fatti bene Sono fatti col culo Che si vede in cazzo Cioè piuttosto Ah un'altra cosa Se non avete la facecam Che si vede decentemente Non la mettete Perché vedere le immagini Proprio le ombre cinesi N'altro po' E fa cagare Ok quindi Questi erano i consigli Secondo me abbastanza importanti Purtroppo io stesso Non li ho rispettati tutti Perché ovviamente Li impari andando avanti Però queste sono le cose Che secondo me Bisogna fare Per cercare di crescere Ovviamente dovete avere Anche un po' di fortuna Allora Lori Romania Mi chiede E come diavolo fai Ad avere tutti i crediti di su FIFA La risposta è semplice Paga Sborsa a spilla Compra investi A solda Ovviamente È l'unico metodo Passate ovviamente Al sito in descrizione Allora User Wimp Che salutiamo ovviamente Iscrivete al suo canale No non è vero Si iscrivetevi Chiede Farai delle magliette del canale? Ovviamente lui già lo sa Per questo ha fatto la domanda Io colgo La fava per la mela E dico le cose come stanno Allora Sto Ho la maglia del canale Già fatta Cioè Ho il disegno Fatto con il logo Fatto tutto bene Mi metterò un'anteprima Qui sullo schermo L'unico problema È che al momento Sono un po' in difficoltà Per stamparle Perché Dove Allora ovviamente Le magliette non le venderò Perché non se le comprerebbe nessuno Ovviamente Le metterò per fare nei video Per essere più professionale Perché comunque mi piacciono E fatemi sapere Se vi piace pure un po' Nei commenti E quindi Per stamparle Cioè io ho pagato 5 euro A maglietta Perché ho preso Magliette buone No magliette de merda Che se scoloriscono Dato che poi le devo usare io Però per stamparle Mi hanno chiesto tipo 12 euro a maglia Per stampare quel fottuto logo Quindi adesso Da quello là Non credo ci andrò Quindi se avete qualcuno Che stampa magliette In zona Roma Ditelo qua sotto Un commento Colgo la palla al basso E facciamo Tutte queste cose incredibili Allora Ultima domanda E poi questo super fuck Velocissimo Arraggio suonambi Aggiornamento Matteo Pipino Ovviamente saluto Anche lui E anche Lori Romania E anche userwimp Ovviamente Credi che la carriera Possa diventare un pilastro Importante il tuo canale Sono grande e bella Allora Bella pure a te Non lo so sinceramente Perché la carriera A me piace registrarla Però Va presa a piccole dosi Perché per esempio A me fare un video di carriera Ogni due giorni Per dire Non mi prende proprio Perché ci fosse un po' di suspense Dovete anche consigliarmi voi Quindi La carriera comunque la continua Perché ho visto che mi piace Mi piace a me Quindi Cosa incredibile Allora Il video finisce qui Era solamente un video Aggiornamento Un po' di domande Così a caso Insomma Vi ho detto anche qualche consiglio Per crescere Quindi Spero che a qualcuno di voi Possa essere utile Fatemi sapere con un commento Mi piace questa nuova postazione Per questi pacchi incredibili I vlog Che quella nuova telecamera Siete papapapapodegrist E niente Noi ci vediamo alla prossima Io Spero che questo video Sia venuto Lasciate un mi piace Anche se Lo vedranno tre persone Stasera vi ripeto Oggi pomeriggio Tardo pomeriggio Live Probabilmente Quindi tutti i presenti Su FIFA A fare draft School Builder E cose incredibili Noi ci vediamo alla prossima Io vi ringrazio come sempre Per la visione Bella